Dal 31 maggio al 2 giugno ritorna il Palio delle Contrade di San Secondo Parmense, centinaia di figuranti in ricchi costumi del Cinquecento e gran finale con la disputa del Palio, la gara a cavallo più emozionante e difficoltosa del suo genere. Dal 31 maggio al 2 giugno vi aspettiamo al Palio delle Contrade per un evento imperdibile.